Per il dopo Ernesto Sica e il centrodestra a Ponte Cagnano Faiano punta su Francesco Pastore, 32 anni di cui 10 trascorsi a servizio della politica. Il candidato a sindaco fa di questo mix tra giovane età e il più piccolo tra i candidati a sindaco che il comune di Ponte Cagnano abbia mai avuto, ma ha allo stesso tempo una decennale esperienza come consiglieri, assessori all'urbanistica, politiche sociali, politiche giovanili, la sua forza. A presentare la sua candidatura per le elezioni amministrative del prossimo 10 giugno, stamane all'altro bar di Ponte Cagnano c'erano, oltre al sindaco uscente Ernesto Sica, i rappresentanti di tutti i partiti della coalizione di centrodestra a dimostrazione di una ritrovata unione del centrodestra salernitano rispetto alla scelta su Pastore. Conosco bene la struttura della macchina amministrativa, conosco bene gli oltre 120 dipendenti del nostro comune, l'articolazione dettagliata degli oltre 10 settori con cui la macchina si articola e soprattutto conosco bene le persone che quotidianamente frequentano il comune, che aspettano da noi delle risposte, conosco gli anziani che vogliono andare in gita, conosco i ragazzi che hanno un sogno di lavoro, conosco le famiglie che hanno e vogliono dei parchi giochi per poter portare i propri bambini, so dove mettere le mani e ho una grande squadra che ci consentirà di raggiungere questi obiettivi. Del fatto che lei è così giovane? Io non ho mai sottolineato questo aspetto, mi diceva un amico mio qualche giorno fa che sono il più giovane tra i candidati a sindaco di questa città, nonostante sono il più giovane paradossalmente sono anche il più esperto, nel senso che quello è più un'esperienza amministrativa di lungo periodo, io ho iniziato oltre 10 anni fa questa esperienza politica e quindi mi consente di dire che essere giovani non deve essere per forza qualcosa di automobilistico come il dottamatorio, queste teorie che a me non appartengono, ma è una grande responsabilità. Dobbiamo dire sindaco che rispetto a questa candidatura c'è una vittoria politica perché si ricompatte in maniera forte il centrodestra sul nome di Francesco Pastore. Sì, centrodestra unito, anzi direi più che unito, è espressione di garanzia politica istituzionale, espressione di una grande capacità di sindesi da parte di Francesco Pastore, espressione di un cambiamento impostando e indicando Francesco che sappia mettere insieme le cose buone di un'amministrazione ma anche le cose da cambiare radicalmente, un'impostazione diversa amministrativa, energie nuove, un grande sprint nell'attività quotidiana e quindi io sono convinto che la maturità politica di Francesco e l'entusiasmo e l'energia sono un buon mix per governare bene i prossimi cinque anni. Giovane con una grande esperienza amministrativa, come lo ha descritto lei, quale consiglio gli ha dato appena è stato deciso di puntare sul suo nome? Guarda, chi ha accumulato tanta esperienza come Francesco attraverso un percorso istituzionale, associativo ma soprattutto un percorso di carattere amministrativo può solo dare del bene perché riesce a mettere insieme entusiasmo giovanile, energia giovanile, fresca energia ma soprattutto ha maturato dieci anni di esperienza in un'attività amministrativa che è un tesoro e un patrimonio. Io dico sempre che chi ha maturato dieci anni di esperienza ed è bravo come Francesco va custodito indipendentemente dalle formazioni politiche e abbiamo quindi un grande patrimonio culturale pulire Francesco.